A presto non è giusto eh? airdrop incoming merci oh airdrop has been delivered shit 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 okay shit 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 da 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 the revive flight will arrive in one minute no 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 airdrop has been delivered ship terminal is almost ready la zona sicurezza la zona sicurezza la zona sicurezza ok ok Sì, 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 guardate, chico. Quedano 40, quindi se si matano a la stessa, abbiamo un posto 20, non ranceremo una mia. Airdrop incoming Tras, tras, tras Airdrop has been delivered Gr Cristo Among them Tricks Airdrop Sì Alla prossima Alla prossima Alla prossima Airdrop incoming Airdrop Alla prossima Airdrop 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 Justo para ahí no Ahí, ahí Para ahí Por ahí pasó uno Para ese cambio The revive flight will arrive in one minute Right Yo torcería un pelín Para la izquierda Pero bueno No 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 airdrop 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 no 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 eso acá hay otro arriba mío me parece si el que mató a ese no lo bajé bueno, bajé con la torreta ese ah, puede ser que lo haya dejado haber ido con la torreta, no? si ah, yo pensé que había otro que era el que lo había bajado es este que vino en el coche a matarme y no pudo ha, ha, ha ha, ha no 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 la zona de seguridad está seca eso, 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 baby è molto attraverso la ventana si viene la zona allà, per questo non mi muovi molto non mi muovi per lante e allà delante tenias una, non lo viste, però è una è la montagna no no ok, il terzo avião no 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 You are the jump leader. Good luck. A cambiare. Oh no, oh no. Chimita. Oh. What's going on with this bitch? I'm going to go to the sea. Oh, I'm going to go to the ground. It's hard to... ...and it's better for the water than from the other side. What? I'm going to... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. Grazie. Come, come, come. Come, come, come. Terminal chip casi ready. Hay que tener la carrera. Acá abajo tenes un cargador Violeta de sniper. Bueno, todavía no tengo sniper. The safe zone is collapsing. Acá abajo tenes un sniper. Voy para atrás y... Vuelvo para adelante. Como siempre. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No, 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 no. Spendere il flanco Ehm, a ver se encuentro il flanco Stava dentro il flanco o nel coprecito da fuori? Sì, nel bambino. Ah, ok. Va a lasciare la placa E qui c'è un luogo Il ski è qui E' questa casa, la prima Ah, stiamo usando Pensi che stavamo a l'esmero C'è una luoguera Ok, c'è una Con Chiratlen Mi franco que tiene No, no, no ¿Había snub? Acá también pasaste de largo, acá un montón de cosas No, que nubo era lo primero que agarré por eso Oh, c'è un altro, c'è un altro. Sì Lo che sì è che ho ho trovato poche tracette di cura Mi ha agarrato prima la violetta Ese sì è un'eserciato largo Siamo arrivati in 1 minuto Posso dare una? Siamo in questa casa No, no, tranqui Una che è violetta o una che? Sì Violetta Tenia 3 Sì, ho una e ora una guardata Listo, Josh Grazie Ragazzi La mochila trevi Siamo Alla Viene Strij Sì 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 c'è un po' di balla viste? sempre ha una cajita sempre ha una cajeta andiamo per il fuente a la izquierda se lo dico per la izquierda e sale per la derecha, che divino la friccione è la falta si, non è comodo in la niente la drop è venuto ora siamo relativamente safe no che fuerti, vamos a rodeare questo no ah si? si voi te stas mettendo in il quilombito? no, no, no in il quilombito no, no por eso me meti no, si vio quando encontrò una mina ora che salimo che asentra sale no me vuelvas loco no me vuelvas loco no no mi è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato Sì Sì Lleva uno di me Airdropi 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 Chiara la porta, lì c'è una bocca Airdrop ha stato trasportato La ultima volta di un minuto C'è un bambino? Sì, signor. Non usé l'attaque di racismo in ogni partita. Sono un bobi o algo. Non so se se avessi avuto l'opportunità. Si avessi 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 avessi. Noi. 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 I DOI. Noi. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti